Voglio che pensi a qualcosa di specifico, qualcosa però che non riguardi la sua organizzazione e che possa venire a conoscenza dei signori qui presenti, qualcosa insomma di personale. Va bene, sono pronto, devo chiudere gli occhi. Non importa. Ecco, posso cominciare. Ecco, posso cominciare. Ecco, posso cominciare. Ecco, posso cominciare.